Capitolo 23 Allora Gesù parlò alle turbe e ai Suoi discepoli, dicendo, Gli scrivi e i farisei seguono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti legano dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filatterie ed allungano le frange dei mantelli ed amano i primi posti nei conviti e i primi seggi nelle sinagoge e i saluti nelle piazze ed esser chiamati dalla gente Maestro. Ma voi non vi fate chiamare Maestro, perché uno solo è il vostro Maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro Padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il Maggiore fra voi sia vostro Servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, poiché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito, e fatto che sia, lo rendete figliuol della Genna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite, se uno giura per il Tempio, non è nulla, ma se giura per l'oro del Tempio, resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché quale è maggiore, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare, non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. Ciechi, poiché quale è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso, e per tutto quel che c'è sopra, e chi giura per il Tempio, giura per esso, e colui che l'abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio, e per colui che vi siede sopra. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell'aneto, e del comino, e trascurate le cose più gravi della legge, il giudicio, e la misricordia, e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciarle altre. Guide cieche che colate il moscerino, e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaion belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e di ogni immondizia. Così anche voi, di fuori, apparite giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia ed iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti, e adornate le tombe dei giusti, e dite, se fossimo stati ai dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Talché voi testimoniate contro voi stessi che siete figliuoli di coloro che uccisero i profeti, e voi colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Perciò, ecco, io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi, e di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoge, e li perseguiterete di città in città, affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figliuol di Barachia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutte queste cose verranno su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più finché diciate Benedetto colui che viene nel nome del Signore.